Dopo l'interruzione delle attività congressuali del Partito Democratico di Puglia, dovuto al periodo di sospensione richiesto dalla Commissione Nazionale, ripartono i lavori in terra di Bari. Domenico De Santi si ha presentato la sua candidatura a segretario provinciale. Gli obiettivi fa sapere la costituzione di una convenzione del centrosinistra, un tavolo composto dai partiti di centrosinistra, Movimento 5 Stelle e liste civiche della coalizione regionale che si riconoscano nei valori della carta costituzionale dell'antifascismo. E ancora l'attenzione ai giovani, con la volontà di inserire 10 ragazzi nati dopo il 2000, 5 uomini e 5 donne, nell'assemblea e nella direzione provinciale per ascoltare il loro punto di vista e trasmettere loro la passione per la politica. Il recupero del rapporto di continuità con i luoghi del lavoro è focale, ha detto De Santi, necessario tornare a essere protagonisti nelle fabbriche, nelle università, nelle aziende pubbliche e private, costruendo proprio lì i circoli tematici che consentano di ascoltare i problemi e mettere in atto proposte e soluzioni. Proveremo a costruire un Partito Democratico che sta davvero tra la gente, che lavora per le persone e per il nostro territorio. Abbiamo bisogno di costruire una nuova fase in cui ritorna il Partito Democratico ad essere centrale, centrale nell'azione di governo alla regione, nei comuni, con Michele Emiliano e con Antonio De Caro, ma presente e centrale nell'azione dell'individuazione del futuro del nostro territorio. Io ho 39 anni, metteremo in campo una generazione nuova di persone che si occupa della politica e che ha passione per la politica. Perché oggi abbiamo bisogno di politica di qualità, che investa sulle grandi energie che ci sono nel nostro territorio, che coinvolga le donne, che coinvolga i giovani e soprattutto che sia in grado di dare una visione nuova di sviluppo del nostro territorio. Grazie a tutti.